167 chilometri da Haifa Tel Aviv. È una frazione pianeggiante per velocisti, quella che caratterizza la seconda tappa del Giro d'Italia. Si parte dalla città più a nord dello Stato, si arriva nel simbolo dell'Israele proiettato nel futuro, sede di oltre mille start-up. Seconda tappa e prima vittoria italiana. Elia Viviani, 29enne veronese della Quick Step Floors, ha battuto in volata Jakub Mareczko e oltre al successo ha indossato anche la maglia ciclamino. È l'Albenga Genova del 2015. Ma le novità non terminano qui. Il Giro festeggia anche un nuovo leader, Rohan Dennis, australiano 27 anni della BMC. Grazie al risultato sul traguardo volante di Cesarea diventa il leader della corsa, sfilando la maglia rosa a Tom Dumoulin. Ed è stato proprio il traguardo intermedio di Cesarea dopo 105 chilometri e 300 metri, uno dei momenti più intensi di giornata. Rohan Dennis precede Elia Viviani e conquista i tre secondi di abbuono decisivi per superare in classifica Dumoulin. Particolarmente emozionante il finale. Il gruppo è compatto e nasconde i rischi dietro ogni curva per i velocisti più attesi, Elia Viviani e Sam Bennett. Tra i due tuttavia spunta Jakub Mareczko che anticipa la volata e si avvia verso il traguardo. È in questo momento che Viviani compie il suo capolavoro. Reattività e colpo d'occhio gli permettono di andare immediatamente in scia al giovane rivale. La gamba poi fa la differenza e regala il successo al 29enne della Quick Step Floor. Chiusura di pomeriggio con le premiazioni sul palco di Tel Aviv davanti a una solare Bar Raffaeli. Enrico Barbin conquista la maglia azzurra del miglior scalatore. Maximilian Schachmann, quella bianca del miglior giovane. E domani si riparte da questa classifica per l'ultima tappa in Israele di questo Giro d'Italia numero 101.